Beatrice e Marco portano i bambini a scegliere delle zucche e disegnano sopra. È un posto veramente fantastico e si divertono molto. Stamattina andiamo dalle zucche. Andiamo dalle zucche? Guardate la zucca. Siamo arrivati dalle zucche. I bambini sono già alla ricerca della zucca da colorare. Guardiamo dove sono andati. Che bello. Ma che bello. Dovete scegliere la zucca che più vi piace. Ale, Ale, non prendiamo questo. Ale, guarda in alto che ci sono quelle più grandi. Comunque la meraviglia di questo posto. una pace meravigliosa. Abbiamo finito di colorare le zucche sul trattore. Ma nessuno ha la patente qua, eh? Chi ha la patente? No, 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 no. Sei grande tu? Marco? Marco, il lavoretto era per i bambini. Ma anche in alto lì? Sì. Gli occhi dopo. Gli occhi, aspetta, deve asciugare. Queste sono le zucche dei nostri bimbi che hanno fatto. Le corde vocali. Miele, 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 miele. Ciao. Le linee l'ana e le dietro. Miele, 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 miele. Allora, hai la bottiglia di vino di fronte a te e tutte le cose che servono a te. C'è poi il parmigiano, quello l'hai già finito. Uno intero, uno intero. No, il vino non lo bevo, che ho messo giù. No, ragazzi, io bevo solo l'acqua. È un posto veramente fantastico e si sono divertiti molto. Adesso Halloween lo festeggeranno in montagna per la prima volta. Buongiorno, ho messo! Grazie a tutti.